Gli enti locali, non necessariamente il Comune di Napoli, non hanno le risorse sufficienti, quelle che servirebbero a creare connessione con i quartieri periferici, come Scampia, Reone Traiano e così. È frustrante per un amministratore sapere di non avere i mezzi per poter accontentare queste persone? I mezzi economici sono pochissimi, in qualche caso addirittura inesistenti, però non è stata una ragione sufficiente per fiaccarci. Stiamo lavorando in questi anni col capitale umano, con tante energie, tanta organizzazione, anche andandoci a prendere un po' di risorse o presso l'Europa o presso il Governo nazionale. Certo i denari sono pochi, sono pochi per le donne e gli uomini delle forze di polizia, sono pochi per i maestri di strada, sono pochi per gli operatori sociali, ma non bisogna mollare, però bisogna denunciarla questa cosa, perché anche nelle manovre economiche che il Governo e il Parlamento preparano ogni anno, segnali concreti di controtendenza, compreso l'ultima manovra in corso, non ci sono.